Benvenuta o bentornata sul gomitore di lana, io sono Chiara e sono qui per parlarti di un nuovo modello a maglia che ho realizzato, che ho appena rilasciato. Si chiama il berretto Giulia. Il berretto Giulia è un cappello traforato dal design unico, che può essere lavorato con due tipi di avvii differenti, quello tubolare oppure quello tradizionale a filo lungo. È un modello perfetto per chi ama lavorare a maglia e cerca qualcosa di originale da creare. Acquistando lo schema avrei accesso al videotutorial completo, che mostra tutti i passaggi fondamentali per la realizzazione del berretto Giulia e in questo modo anche i principianti possono seguire le istruzioni e creare il loro cappello personalizzato. Ma c'è di più perché in questo momento su Instagram sto ospitando il cal, cioè il knit along dedicato al berretto Giulia. Tutti possono partecipare fino a metà aprile, condividendo le loro foto del cappello in progresso o finito con l'hashtag berretto Giulia. Non perdere l'opportunità di creare il tuo berretto Giulia e di partecipare al cal. Acquista subito lo schema di lavoro a maglia e inizia a lavorare il tuo cappello. Ti assicuro sarà un'esperienza unica e soddisfacente. Grazie e alla prossima!